all'apparenza sono dei semplici Ray-Ban però se si va ad aprire questa custodia che è dotata anche di un connettore per l'alimentazione troviamo degli occhiali che sono speciali sono i Ray-Ban Stories realizzati da Luxottica e da Facebook la telecamera i microfoni sull'asta destra c'è il tasto per fare fotografie e video e sfiorando l'asta si può alzare o abbassare il volume con questo microfono invece si riceve come da un telefono comune siamo a Cortina, Corso Italia, questo è il campanile, uno dei campanili più famosi del mondo e sto facendo questa ripresa con i Ray-Ban Stories della Luxottica Facebook e qui siamo alla cooperativa di Cortina sotto c'è lo spazio libri, l'edicola si vede anche il mio libro, noi ragazzi di Silvano Pontello la parte riservata ai cagnolini ferramenta e là in fondo c'è l'alimentari rintocco il campanile di Cortina io sto facendo un video con i Ray-Ban Stories e si trovano anche qui al negozio Salmoiraghi e Viganò che è un negozio, una catena di Ray-Ban e difatti adesso si stanno facendo la pubblicità a Ray-Ban Stories Mentre in Pernura è molto caldo, qui a Campolongo di Cadore, sul Piave, sul fiume Piave abbiamo avuto una bella pioggia, la temperatura si è abbassata e i colori diventano ancora più belli dopo che c'è stato un nubifragio ecco la chiesa, il nostro campanile i monti, le tre terze no 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 Grazie a tutti.